Alux nasce negli anni 2000. Un progetto creato da mio padre, Morabito Francesco, è quello di creare un impianto di verniciatura e un'azienda per i propri figli. Nell'esattezza a tre figli, io, Morabito Maria Rosa, oggi amministratore dell'azienda, e i miei due fratelli, Salvatore e Maurizio. Il nostro principale obiettivo è quello di crescere e insieme a noi far crescere anche i clienti che ci si affidano. La formazione è molto importante, è quella sulla quale noi puntiamo, sia personale che professionale, ma non di meno anche la ricerca di nuovi prodotti, quelli che danno l'opportunità ai nostri clienti di poter distinguersi dai loro competitors e di non avere il prezzo come unica leva per distinguersi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.